La prima trasferta dell'Avellino della stagione 2021-2022 sarà contro la Juve Sabbia di Walter Alfredo Novellino. Alte ambizioni e voglia di tornare in caratteria, questo il mix di emozioni che da ormai qualche settimana si respira in casa Vespe. Dopo qualche malumore di troppo, il gruppo e la tifoseria stabiese sembrerebbe essersi nuovamente compattati per puntare dritti al ritorno in Serie B. Nel precampionato le Vespe hanno ben figurato contro Campobasso e Potenza, discorso differente per le prime gare ufficiali con la sconfitta in Coppa Italia contro la CR Messina ed il pareggio Scialbo 1-1 contro la Videlisandria. Contro l'Avellino la Juve Sabbia dovrebbe presentarsi al gran completo, restano ferme ai box Cinai e Lazzari, fermi ancora per Covid. Il tecnico di Montemarano potrà contare sul rientro di Altobelli e Trust che dalla squalifica sono rientrati nei giorni scorsi. In via di risoluzione il contratto con uno dei primi acquisti, Gomez. Avanza dunque l'ora dell'esordio di Eusebi che verrà preferito alla giovane della pietra. Sarà dunque 4-2-3-1 con Sari tre pali, linea 4 composta da Rizzo, Trust, Tonucci e Donati e Schiavi e Bernardocco in mezzo al campo. Con Panico e Stoppa e Bentivenga a sostegno del nearrivato Eusebi. Juve Sabbia che vorrà contare sul calore del pubblico ritrovato ma soprattutto in una partita che ha il sapore antico contro la formazione bianco-verde da sempre rivali ma solamente in campo.